Grazie Allora, noi stiamo facendo una raccolta di petizioni, una cosa seria perché Lorenzo, il nostro bassista, vorremmo che aprisse un account OnlyFans però abbiamo bisogno di abbastanza firme, capito? Io firmo Firmo anch'io Adesso passo, passo con le picchie, passo con le potesse nere, messaggio promozionale qui c'è il nostro bellissimo pancato di percentuali, veramente bello, si può pagare anche col banco abbiamo il post, abbiamo il post, accettiamo tagli fino a 10.000 euro stasera c'è la promo di Halloween, potete guardare, il mio è bello, il post è bellissimo, ha pochi soldi ma se volete io ho il sentimo pay per esempio quando c'è l'ora non può di poterlo questa è una canzone è una canzone senti tutto vabbè no, sono mezzo dobbiamo anche darlo qua non è un'altra canzone non è un'altra canzone ok 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.